piloti che gente un vecchio andazzo che era recitato da un grande uomo che si chiama enzo ferrari riguarda i piloti di tutto il mondo dal mondo delle auto a quello delle moto in questo caso parliamo di moto parliamo soprattutto di vere e proprie teste di casco iniziamo questa rubrica con una testa di casco per eccellenza adesso vi faccio vedere di chi sto parlando sono sicuro che molti di voi riconosceranno questo casco subito la testa di casco di cui vi voglio parlare oggi è quella di noriuki haga il samurai brianzolo tutti quanti conoscono nel dettaglio quella che è la storia di nori un giapponese fu un ambro che si è presentato al mondo sul palcoscenico di suzuka nel 1998 una tappa che noi italiani ricordiamo bene perché quella fu la gara vinta da max biaggi al debutto in 500 in sella alla sua onda nori per tutta la gara sfidò max purtroppo sconfitto purtroppo per nori per noi italiani invece fu una grandissima gianna di festa ma noi lui che riuscì a dare spettacolo duellando fino alla bandiera scacchi contata di yuki okada che riuscì ad agguantare il secondo posto in quella giornata tutti quanti conoscono noi riuscì per il suo carattere per la sua esuberanza gli appassionati sicuramente si ricorderanno qual era la sua forma di allenamento preferita quando non andava in moto noriuki riusciva a far rispecchiare attraverso le grafiche del suo casco questo suo carattere le fiamme che abbracciano il suo arai dal mento fino alla nuca sono un segno distintivo della passione di noi molto poco giapponese sia in pista che fuori noriuki era adorato letteralmente dai fan nel paddock della superbike era facile trovare una folla di appassionati fuori al suo track fuori al box e nori da bravo giapponese era totalmente indifferente anzi spesso si domandava perché piacesse tanto ai tifosi la realtà è che aga aveva un carattere molto poco giapponese in pista dava vita dei duelli incredibili tutti quanti ricordiamo i suoi sorpassi all'interno i suoi duelli con fogarty slight con kosischi con tutti quanti i re della storia della superbike nori è un re senza corona ha vinto tantissime manche nel mondiale delle derivate ricordiamo tutti quanti il mondiale perso se così si può dire nel 2000 a causa della squalifica per uso di efetrina inizio stagione ma tutte le gare di quella stagione sono rimaste impresse nella memoria degli appassionati come la bellissima yamaha r7 che guidava in quella stagione indossando proprio questo casco quella testa di casco di nori amava tra l'altro essere molto estroverso anche per quanto riguarda la scelta di colori questa qua è la prima grafica famosa del giapponese ma in realtà negli anni noriuki ha regalato agli appassionati una serie di grafiche diverse che riuscivano tutte ad incarnare perfettamente il suo carattere ricordiamo la prima in sella all'r7 successiva a questa qui che poi utilizzata anche quando è andata in moto gp in sella all'aprile rs cube poi è tornato in superbike quindi c'è la magica grafica con le fiamme col disegno della bandiera giapponese sulla fronte che era quella utilizzata negli anni della yamaha tra il 2007 2008 e poi con la ducati nel 2009 quando riuscì a contendere a ben spisse il titolo di campione del mondo fino all'ultima gara noriuki insomma è riuscito a lasciare il segno in pista e fuori tantissimi appassionati si ricordano di nori come il vero vincitore morale di almeno tre mondiali in superbike purtroppo non è mai riuscito a guadagnarsi quella corona dopo essersi ritirato ha continuato a divertirsi in pista tra l'altro oggi tiene dei corsi di guida in italia perché noriuki è una sorta di trapiantato in italia grande appassionato della cucina italiana però ha deciso di aprire un ristorante giapponese a milano qualche anno fa il giapponese di nagoya pur non avendo mai vinto un titolo ridato ha conquistato di diritto un posto nel cuore di tutti gli appassionati ho scelto aga per raccontarvi la prima testa di casco di questa rubrica spero di raccontarvene altre nelle prossime settimane mi vengono in mente i nomi di schwanz kosisti duan piloti che hanno scritto la storia del moto mondiale della superbike ragazzi mi raccomando se vi è piaciuto questo video ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella non perdete un video di GP1 ciao